Numeri da record nel bilancio 2021 di Lario Riti Holding, azienda di proprietà dei comuni che gestisce il servizio idrico integrato nell'intera provincia di Lecco e rappresenta il territorio nella compagine societaria della multiutility ACSM Agam. Per quanto riguarda i dati economici, i ricavi ammontano a 56,6 milioni di euro e sono costituiti prevalentemente dalla tariffa spettante al gestore per le attività del servizio idrico integrato, spiega Lelio Cavalier, presidente del consiglio di amministrazione di Lario Riti Holding. L'utile e netto d'esercizio 2021 della società si attesta a 6,5 milioni. Tale cifra risente positivamente dell'apporto dei dividendi erogati dalla partecipazione detenuta in ACSM Agam. Tra i risultati più significativi ottenuti nel 2021 si evidenziano l'avvio dei lavori di posa della fognatura da Olivietolario a Valmadrera e il raddoppio della dorsale dell'acquedotto Brianteo. Entrambi saranno pronti nel 2023. E la conclusione dei progetti di adeguamento dell'impianto di depurazione di Lecco, che hanno permesso l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva allo scarico. Nel 2021 sono stati complessivamente investiti 33,8 milioni di euro più 13,8% rispetto al 2020, pari a 98 euro per abitante, la cifra più alta degli ultimi sei anni. Le attività sono relative al piano d'ambito, spiega Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding, suddivisibile in lavori sull'acquedotto, sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione e adesso si affiancano attività di ricerca perdite, manutenzioni ed altri investimenti tra cui spiccano la sostituzione dei contatori e la telelettura dei consumi e gli allacci di rete all'acquedotto e alla fognatura. L'utile derivante dalla gestione del servizio idrico integrato, come da statuto, è stato destinato interamente al sostegno di nuovi investimenti su reti e impianti. Ai soci è stato inoltre presentato il terzo bilancio di sostenibilità dell'azienda. L'anno appena trascorso, spiega Antonio Rusconi, presidente del comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, chiude questi primi sei anni di gestione del servizio idrico integrato per l'intera provincia di Lecco e ha dimostrato nuovamente, come Lario Reti Holding, sia un'azienda sana che garantisce un servizio pubblico di qualità e fornisce risposte concrete ai bisogni dei comuni e dei cittadini. Tra queste voglio ricordare nuovamente il bonus idrico straordinario, voluto nel 2020 dai comuni soci e attivato nel 2021. Questo proseguirà anche nel 2022, a sostegno delle famiglie disagiate in seguito all'emergenza Covid-19.